Ciao cari fighters, oggi impariamo un nuovo tipo di respirazione, si chiama il respiro del ghiaccio. Per poterlo fare si comincia sempre da un richiamo, da un suono. Potete per esempio utilizzare una campana, se ce l'avete, fate questo suono e vi fermate. Oppure qualsiasi altro strumento, come delle campane, oppure dei cimbali come questi, un oxilofono, in modo che a casa sanno che voi siete impegnati a fare questa cosa, questo gioco, magari qualcuno si unisce a voi e così non siete disturbati. Come si fa quindi? Si immagina appunto di avere molto freddo, il respiro del ghiaccio appunto, e quando si ispira si tende tutto il corpo, si chiudono le spalle, sentite l'aria che entra dal naso? Poi mi fermate e poi soffiate l'aria dalla bocca e il ghiaccio si scioglie. Ancora una volta, mi fermate un momento, mi preparate, mi ispirate e poi il ghiaccio si scioglie. Lo proviamo l'ultima volta, ci fermiamo e ricominciamo. Fa freddo, fa freddo, ispiro dal naso, mi fermo e il ghiaccio si scioglie. Grazie. E poi per dire a tutti che avete finito, suonate di nuovo la campana. A presto.